sul monte la monna siamo partiti da campocadino una bellissima giornata veramente poca poca neve però c'è praticamente zero giusto qualche lingua ghiacciata ecco qua la bellissima croce di vetta che risplende su tutta la ciociaria eccola qua bellissima qui adesso si vede tutta la piana di campocadino con giù la magliella il velino giù si vede appena appena il gran sasso tutta campocadino fino all'albergo da dove siamo partiti ecco qui monte la monna 1952 e un ciao ciao a tutti